3-1 massima velocità Scala 1-2 fuori Dobbiamo riprendere il controllo dei cieli per non perdere il gateway Diamo una bella ripulita e scacciamo il set def dallo spazio aereo 4 unità, 4 unità a scelterire l'evo Versaglie a ore 11 Non mi ballano! Versaglio a sinistra Ti respingiamo, non molliamo ora Due battuti Si allontana Usano missili guidati I Jekyll della guardia costiera non sono pronti Tigris, serve qualcosa che bilanci la situazione Ricevuto a Scala 1-1 Drone di supporto missilistico in arrivo Indicare la zona di lancio Posizione segnalata Drone in arrivo 4G of light Pronti a far fuoco Scala, dateci dentro con quei missili Capitano, il suo stato? Base quasi libera, stiamo facendo pulizia Ne mancano pochi Finiamoli e aiutiamo la Tigris Ci siamo quasi Versaglio a ore 12 Scar, Ijak nella zona di combattimento Attaccate quelle navi 3, 2, 3, 2, 1 Sparare Ricevuto 3, 1 in arrivo Ricevuto, attaccano le torri Non perdono le esercizioni Torre da 4, 1 Torre 5 colpita Squadra, fate fuoco su quelle navi Mirate alle armi Versaglio a ore 12 Affermativo Scar, pronti al lancio orbitale Ricevuto, saliamo Reyes, siamo in posizione Ti aspettiamo Ottimo lavoro, Marine Preparate a trasporto Ci vediamo sulla retribuzione Affermativo, sergente Inbocca il loro potenente Rider, danni al motore di sinistra della Tigris Serve supporto immediato Rider in arrivo per abbordare la nave nemica Attendere Qual è il piano, capitano? Usceremo dalla prua A babordo Poi dritti in plancia Una volta dentro Disattiveremo plancia e armi di poppa Ok, finita l'ora Usciremo dalla stiva di carico Esatto A quel punto la Tigris aprirà il fuoco Lo vedo Tigris, contatto visivo Ricevuto Fuoco di copertura Dietro di me, Rider Seguo, Fever Occhio a contraerea Ho visto Jacko, l'alleato abbattuto Siamo alla zona di lancio Lancio in test Due, uno Via, via, via Uno, due fuori Uno, uno fuori No, ce l'andiamo Ecco che arrivano Mateli fuori Tigris, fate qualcosa per quegli Skelter Avanti dai! Che pensiamo noi? Voi Dotato Non Tipo Quattro Voi 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 Poce Chi Pos Voi Tras Quattro No! Sola libera! Ecco l'ingresso! L'escovi sono correttivi. Ricevuto! Tigris, siamo all'esterno della plancia. Irrompiamo! Ricevuto! In attesa! Ti mando in corto. Forza, andiamo! Sergente, copra l'uscita. Ethan, disattiva le armi principali. Agli ordini. Solta le finestre. Mi prendo la gravità. Serve il tesserino del comandante. Prendiamo il tesserino e andiamo, capitano. Tigris, armi principali fuori uso. Passiamo alle secondarie. Ricevuto. Giù per il pozzo dell'ascensore. Via! Il controllo di poppa è vicino. Sala macchine. Annullare ispezioni di routine. Riferire condizione e passare al programma. Non sparate, non sanno che servono. Il controllo è di qua, un ponte più in basso. Bene, apri. C'è un movimento. La plancia è fuori lì. Sappiamo dove sono. Ok, setacciamo tutta la nave. Muoversi. Spazio premia! Nemici, là davanti! Al lavoro, Ethan. Disattiva le armi secondarie. Bene. È richiesto il tesserino per accedere. Collegamento in corso. Le armi sono bloccate. Capitano, ho trovato qualcos'altro. Sembrano posizioni di navi nemiche. Puoi scaricare? Già fatto, capitano. Bene. Andiamo. Tigris, armi fuori uso. Ci dirigiamo all'uscita. Sergente, ci porti fuori. Questa non è un'esercitazione. Non si metti. Ricambio, sergente. Squadra, Scar. L'Ares si prepara a saltare fuori dalla zona di combattimento. Uscite subito dalla nave. Quanto tempo abbiamo? Tre minuti al massimo. Tigris, procedere all'attacco. Roger, attacco in corso. Attenzione. È forte. Andiamo. Per salto di emergenza. Vicino alla nave. Per salto di emergenza. Per salto di emergenza. Ripeto. Per salto di emergenza. Armoni a piena potenza. Fuoco di direzione 269. Per salto di emergenza. Per salto di emergenza. Ora! Libero! Le porte della stima sono da l'altro lato. Le aree salteranno a momenti. Non possiamo più aspettare. Si stanno trasferendomi. Alla sala di controllo, muoversi! Saranno con noi! Il passato è il tempo per scadere! Il passato è il tempo per scadere! Ora è 12! Quadra, il tempo sta per scadere! Muoverci! Abbiamo la sala di controllo! Depressurizzazione! Depressurizzazione! Reggetevi! Igris! Servono Jekyll! Ok! Arrivano a me! Eccoci! Arrivano! Sopra! Ecco i Jekyll! Bene! Andiamo! 1-2! Sono toccati! Propulsione al massimo! Tigris! Scar fuori! Ricevuto! Procediamo all'attacco! Fai così! Versaglio neutralizzato! Versaglio neutralizzato! Missione compiuta, Tigris! Unità Scar in movimento! Lo Stratcom ha riassegnato la Tigris fuori dall'area operativa! Sono sicura che ci rivedremo ancora! Bisogna tenere il nemico lontano da casa! Buon viaggio, Capitano Reyes! Grazie, Capitano Ferro! Capitano, messaggio prioritario dall'ammiraglio! Roger, passamelo! Subito! Capitano Reyes! Lo Stratcom ha decifrato una trasmissione inviata dall'ammiraglio Coach sei ore prima dell'attacco! Roger, ammiraglio, proceda! Oggi, il fronte inizia la conquista! Da questo momento noi eradicheremo l'autorità e l'influenza della Terra!